Cosa lì? Sono principiato! Cosa lì? Sono principiato! Dai, ma poi... Mi hai messo esperto, vero? Sì! Sto morendo! Mamma! Mi hai rotto il casco! Secondo me... E allora, nipotini, un assaggio della diretta che verrà dopo. Il trio veramente ci fa sbaccanare per le sali di Jesolo. State con noi, seguite i prossimi video. Ciao!